Musica Sono Tommasina Mascaro, sono una designer e una pittrice. In questa mostra il nostro obiettivo è stato dublice. Da una parte evidenzare i conflitti interni tipici di questo periodo, dati dai cambiamenti che sono avvenuti sia a livello economico sia a livello tecnologico. Il secondo è quello di evidenziare il cambiamento avvenuto all'interno dell'arte, quindi l'utilizzo di nuovi strumenti per la creazione di opere d'arte, come per esempio l'utilizzo di nuovi software per la creazione di opere d'arte, come potrebbe essere la creazione di dipinti grazie all'utilizzo di software quali in design, illustrator. Il nostro obiettivo è duplice. Il secondo è quello di evidenziare come si è cambiato il modo di fare arte, mediante l'utilizzo di nuovi strumenti, come quelli tecnologici, quindi l'utilizzo per la creazione di opere d'arte di software, o la riproduzione di opere d'arti grazie alla tecnologia che ci permette di essere e di riprodurre velocemente dei disegni, che ci permette di riprodurre in modo veloce dell'immagine o delle opere d'arti. Grazie a tutti.